Nelle ultime lezioni di storia medievale che ho postato su questo canale abbiamo parlato della nascita da un lato degli stati nazionali, delle monarchie nazionali come la Francia e l'Inghilterra, la Spagna, dall'altro della crisi dei comuni in Italia, l'emergere delle signorie, poi le guerre tra queste signorie, stati territoriali, stati regionali che si sono creati in Italia. E qua e là di tanto in tanto ho citato la figura dei papi, vi ho parlato recentemente di Sisto IV, di altri papi del 300 e del 400 che muovono le loro pedine sul panorama politico europeo. Però in realtà sulla Chiesa dobbiamo ancora fare, aggiungere un tassello, fare una puntata nuova perché dobbiamo vedere come la Chiesa tornò da Avignone a Roma e come questo ritorno a casa, diciamo così, fu in realtà molto complicato perché generò conflitti, dissidi, problemi e il celeberrimo scisma d'Occidente. Oggi parleremo proprio di questo, andiamo a cominciare. Un po' di caffè, sempre, per affrontare queste lunghe lezioni. E Batman, anche lui, il nostro mascotto ufficiale presente a lezione, all'appello lì a guardarci dall'alto. E se capitate qui per la prima volta, mi chiamo Armando Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori. E in questo canale pubblico ogni giorno, quasi, a volte anche più di uno al giorno, dei video di storia e di filosofia in cui presento gli argomenti che di solito si fanno a scuola, in terza, quarta e quinta superiore, perché sono inizialmente lezioni pensate principalmente per i miei studenti, però poi fruibili ovviamente da chiunque. L'argomento oggi è un argomento di storia, storia medievale in particolare, e parliamo della Chiesa, o meglio della Chiesa tra, direi, la fine del Trecento e la metà del Quattrocento, perché la Chiesa Cattolica vive un periodo di grande crisi in questo momento, tutto il basso medioevo è un periodo di difficoltà, perché la Chiesa viene criticata, l'abbiamo detto, ha dei mali, dei problemi legati al comportamento del clero, legati alla corruzione, ma questi nodi vengono maggiormente al petino appunto tra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento, quando si scoppia il cosiddetto grande scisma d'Occidente, lo scisma d'Occidente, nel senso che tutte le Chiese Cattolico-Occidentali si spaccano. Fino a poco tempo prima abbiamo avuto un solo grande scisma importante nella Chiesa, quello con la Chiesa d'Oriente, quella che aveva portato alla nascita della Chiesa Greco-Orto-Rossa, staccata dalla Chiesa Cattolica Romana. Quindi a Costantinopoli, a Bisanzio, era nata un'altra Chiesa Autonoma, Ortodossa, con rapporti difficili con la Chiesa Cattolica ovviamente, ma nella zona occidentale dell'Europa c'era un potere universale che era quello del Papa e che sembrava poter resistere ancora a lungo e in realtà appunto, come vi dicevo, a fine del Trecento qualcosa cambia. Il motivo di questo cambiamento è legato alla questione di Avignone. Ricorderete che in un video precedente, che vi linko anche in descrizione se volete darci un'occhiata, avevamo detto che all'inizio del Trecento, con Bonifacio VIII in particolare, c'era stato un drammatico braccio di ferro tra papato e stato francese e re di Francia, in particolare Filippo IV, detto Il Bello, che aveva ingalzato davvero una sfida con il Papa Romano, una sfida che poi Filippo IV aveva vinto sostanzialmente, perché era riuscito a ottenere tutto quello che voleva, Bonifacio era stato addirittura schiaffeggiato, ricorderete Adanagni, vicino a Roma, la sciarra colonna, un nobile romano alleato del re di Francia ed era morto poco dopo. E dopo la morte di Bonifacio, abbiamo detto, proprio nei primi anni del Trecento, nel 1309, la chiesa, i papi successivi avevano deciso di trasferirsi, lasciare Roma, la sede fino ad allora, più o meno del papato, dico più o meno perché poi non è che stessero sempre, sempre da Roma i papi, giravano molto più di oggi, però insomma, la sede ufficiale fino a quel momento del papato, dal 1309 si sposta ad Avignone, Avignone cittadina del sud della Francia, dove i papi si costruiscono un grande palazzo e dove rimangono per quasi 70 anni. Chiaramente essere a Avignone, essere vicini, anche se Avignone aveva una certa autonomia, però essere sotto legida, sotto il controllo della Francia, voleva dire essere anche sottomessi e sottoposti al potere della Francia, al re di Francia sostanzialmente. Infatti c'era stata anche una lunga serie di papi francesi, vescovi francesi, che venivano eletti papi. Questo dura per qualche decennio, però appunto nel 1377 il nuovo papa decide di riportare la sede del Vaticano a Roma e questo crea problemi. Questo nuovo papa si chiama Gregorio XI, la Francia non digerisce di buon grado questa sua decisione, i vescovi francesi non accettano di buon grado questa sua decisione, ma Gregorio pare irrimovibile e torna a Roma. Qual è però il problema? Che Gregorio muore l'anno dopo, nel 1977 fa questo trasferimento, nel 1978 bisogna di nuovo eleggere un nuovo papa. E tutto sommato è vero che la Francia aveva protestato, che i francesi, il re di Francia avrebbe preferito mantenere il papato sotto la sua custodia, sotto la sua influenza, però in fondo la questione di Gregorio poteva essere facilmente risolta. Poteva capitare che dei papi si spostassero, ripeto. L'importante per la Francia era che il papa successivo ritornasse ad Avignone, che, a parte questa breve parentesi di Gregorio, le cose ritornassero come erano state nei decenni precedenti, quindi che il nuovo papa, eletto, si rispostasse di nuovo a Avignone e rimettesse a posto le cose. Ecco, il nuovo papa che viene eletto però non ha intenzione di fare questo. Il nuovo papa si chiama Urbano VI, viene eletto appunto nel 1378 e decide di stabilirsi a Roma come Gregorio XI, come gli storici papi della Chiesa. E quindi se il secondo papa consecutivo dice di voler stare a Roma, per la Francia sembra chiudersi davvero la porta di poter essere la sede in qualche modo, Avignone la sede del papato. Però succede qualcosa, un fattaccio, perché i vescovi francesi non sono disposti ad accettare la scelta del concilio di eleggere Urbano VI. Urbano VI è stato eletto ovviamente, ma i vescovi francesi sono contrari, che questo vescovo italiano ristabilisca la sede a Roma. E quindi decidono di riunirsi tra di loro questi vescovi francesi. Fanno un loro piccolo concilio che si svolge a fondi, fondi alla cittadina del Basso Lazio, della parte più meridionale del Lazio, che però all'epoca non era stato della Chiesa ma apparteneva al Regno di Napoli. Regno di Napoli che in questa fase è nominato dagli Angioini. Gli Angiolini, ricorderete bene, sono francesi, sono imparentati col re di Francia. Quindi i vescovi francesi che sono lì in zona dicono rifiutiamo questo papa, ci riuniamo tra di noi protetti da un alleato forte della Francia e eleggiamo un nuovo papa. In effetti questi vescovi francesi eleggono un nuovo papa che si chiama Clemente VII, che decide di trasferirsi a Avignone. Ora, qual è il problema? Abbiamo contemporaneamente due papi. Abbiamo un papa eletto in Italia, italiano, che vuole stare a Roma, che si chiama Urbano VI e un papa eletto nel Regno di Napoli, eletto da solo le vescovi francesi, che vuole stare ad Avignone, che si chiama Clemente VII. C'è uno scisma perché chiaramente due papi contemporanei non possono esserci, non ci dovrebbero essere. E questo provoca una frattura, una rottura all'interno della Chiesa Cattolica. Uno dei due papi è abusivo e l'altro invece è quello giusto. Ma quale dei due è abusivo? Quale dei due è un usurpatore? E quale invece è quello che effettivamente va riconosciuto come papa? Ecco, chiaramente ogni stato decide di appoggiare il proprio candidato. Perché, pensateci bene, qua diventa una questione di carattere politico. Con la religione e con la fede c'entra poco o nulla. Non è una questione di quale dei due sarà il miglior papa. La questione è quale dei due sceglieremo e quindi dove vorremmo che la Chiesa si collochi dal punto di vista politico. Perché se si opta per urbano sesto, quello italiano, in fondo si vuole una Chiesa staccata indipendente dalla Francia. Si vuole una Chiesa che abbia un proprio margine di manovra. Una Chiesa più italiana che francese, diciamo così. E comunque relativamente autonoma. Anche se non sono più i tempi di Bonifazio VIII, dei papi precedenti. Però è una Chiesa relativamente autonoma. Se invece si opta per Clemente VII, cioè per il papa francese, allora chiaramente si spera che la Chiesa rimanga in qualche modo legata alla Francia. Subisca l'influenza francese, sia politicamente, geopoliticamente vicina alla Francia. Quindi, chi si schiera e da che parte si schiera? La Francia sostiene ovviamente il papa francese, non c'è neanche bisogno di dirlo, ovviamente. Ma non solo la Francia. Dalla parte del papa francese si schierano anche alcuni alleati della Francia, come la Scozia, ad esempio, tradizionalmente vicino alla Francia in funzione anti-inglese. Si schierano i regni spagnoli, che non si è ancora, ripeto, a fine 300. La Spagna non si è ancora unificata tra Castiglia e Aragona, eccetera. Però sono già regni abbastanza corposi, che hanno occupato una parte della penisola e si schierano la parte del papa avignonese e poi si schierano la parte di questo papa anche il regno di Napoli. Dato che il regno di Napoli, vi ho detto, è mano agli angioini, è filo francese, è stato lì che è stato eletto questo papa e quindi Napoli si schiera da quella parte. Con invece il papa italiano, con Urbano, chi si schiera? Chi sostiene questo papa? Sicuramente il nord Italia. I comuni del nord Italia, le zone, quelle che stanno diventando ormai signorie del nord Italia, sostengono il papa italiano perché vogliono che l'Italia ricominci a contare, anche dal punto di vista spirituale, ecclesiale, eccetera. Quindi sicuramente sostengono il papa italiano. Sostengono il papa italiano anche l'Inghilterra, ovviamente, come nemica della Francia. L'Inghilterra sta facendo in questo periodo la guerra di cent'anni contro la Francia. Se la Francia appoggia un papa, l'Inghilterra necessariamente appoggia il papa rivale. Si schierano poi, sempre con il papa italiano, anche buona parte della Germania, dell'area tedesca, anche se non c'è uno stato unitario, però l'impero sostiene il papa italiano. Anche una parte dell'est Europa, cioè la Polonia e l'Ungheria, ad esempio, sostengono il papa italiano. E poi, infine, sostiene il papa italiano anche la zona delle fiandre. Fiandre che sono combattute tra inglesi e francesi e in funzione antifrancese queste fiandre si schierano col papa italiano. Visto che la Francia allunga spesso le mani su questi territori, questi territori invece vogliono rimanere autonomi. Meglio che la Francia perla e quindi meglio schierarsi col papa avverso. Questi sono gli schieramenti. Vedete, è una questione politica, è una faida politica. Mezza Europa da una parte, mezza Europa dall'altra. La fede c'entra poco, c'entra soprattutto il peso, l'autonomia, l'indipendenza oppure la dipendenza del papato. Questa è una frattura ovviamente molto grave che indebolisce la Chiesa, perché già la Chiesa, come vi dicevo all'inizio, soffre di alcuni problemi di carattere morale, ma questo scismo non fa altro che accentuare questi problemi, perché nell'occhio del fedele, il cristiano che riconosce la Chiesa cattolica, si chiede ovviamente, ma qual è il mio papa? È quello di Avignone o quello di Roma? E perché questi due litigano? Perché i vescovi litigano? Perché non eleggono l'unico papa e invece nominano due papi diversi, che poi si fanno la lotta e che i vari re appoggiano o contrastano? Perché evidentemente negli occhi del fedele anche il papato è una carica prettamente politica ormai, non è una carica spirituale e questo può generare ovviamente un clima di grande sfiducia nei confronti della Chiesa, una Chiesa che sembra più interessata al potere, alle questioni politiche che non alle questioni spirituali. Bisogna risolvere il problema, se ne rendono conto anche gli stessi vescovi che hanno in certo senso portato la Chiesa cattolica in questo guaio e che adesso bisogna però anche uscire, non è possibile avere due papi contemporanei e sostenuti ognuno da mezza Europa, bisogna unificare la Chiesa, unificare anche la fede e quindi avere un unico papa. Ci sono tante trattative per cercare di arrivare a un compromesso, arrivare a una risoluzione, in realtà molto, molto difficile proprio perché Francia e Inghilterra si odiano, sono in guerra, gli altri paesi si muovono per contrastare l'uno e l'altro, insomma non è affatto semplice. Passano 30 anni prima che si riesca a fare qualcosa di concreto e questa prima mossa concreta reale per riparare e risanare questa frattura arriva nel 1409 quando si svolge un concilio a Pisa, famoso appunto come Consiglio di Pisa. Questo Consiglio di Pisa avrebbe come scopo quello di mettere pace in questo scisma e trovare un compromesso. Apparentemente ci riesce perché il concilio a cui partecipano molti cardinali, molti vescovi, insomma una buona parte della Chiesa Cattolica anche di quella fratturata diciamo, riesce a trovare, a accordarsi su un nome. Riescono a scegliere un possibile papa nuovo che viene eletto effettivamente durante questo concilio e prende il nome di Alessandro V. Qual è il problema? Questo Alessandro V, che dovrebbe essere il papa di tutti, in realtà finisce per non essere il papa di nessuno perché i due papi in carica, che non sono più Clemente VII e Urbano VI, perché nel frattempo sono morti e hanno dei successori, ma i due papi in carica, quello avignonese e quello romano, non sono disponibili a dimettersi. La soluzione sarebbe stata Pisa elegge un nuovo papa, gli altri due si dimettono e abbiamo un papa unico. Però invece come va? Pisa elegge un papa, ma gli altri due non si dimettono, abbiamo contemporaneamente non più solo due papi, ma addirittura tre papi e quindi lo scisma si aggrava invece che risolversi. Passano gli altri anni, si tentano altre mediazioni, si arriva alla fine al 1418, sono passati guardate 40 e rotti anni da quando è iniziato questo scisma, quindi è una questione grossa e ampia. Siamo arrivati al 1418 quando si ritiene un nuovo concilio, il concilio di Costanza, che è data inizia qualche anno prima ma si conclude nel 1418 e finalmente il concilio di Costanza riesce a trovare un compromesso. Vengono fatti dimettere tutti i papi in carica, sono costretti alle dimissioni e stavolta si riesce davvero a farli dimettere e viene eletto un nuovo papa che prende il nome di Martino V, questa volta papa di tutti, davvero, almeno di quelli che si riconoscono nel cattolicesimo e Martino V decide di spostare la sede definitivamente a Roma da lì in poi la sede sarà sempre a Roma e rimarrà a Roma, quindi Avignone se la mette via, i francesi se la mettono via e si accetta questo compromesso dopo tanti anni di problemi, di questioni. Ci sono delle conseguenze però che adesso vediamo. Prima importante conseguenza di questa situazione, il fatto che questa lotta, questo dissidio, questa frattura sia stata risolta da un concilio è importante perché dà spago alla cosiddetta tesi conciliarista, alla teoria forza conciliarista. Cosa intendo dire? Apro una parentesi che adesso ci serve poco ma che ritroveremo anche più avanti nella storia. All'interno della chiesa cattolica c'è certo il potere del papa, un capo potere forte, importante, è il vescovo di Roma, è il capo della chiesa, però c'è da Giallo Medioevo fino in parte ancora ai giorni nostri ampio dibattito su chi abbia maggior potere e maggior rilevanza. Ce l'ha il papa oppure ha maggior potere il concilio, cioè la riunione di tutti i vescovi e cardinali della chiesa? Questo è un tema importante. Chi è che comanda veramente nella chiesa? Il papa come erede, successore di Pietro oppure il concilio che racchiudendo tutti i vescovi, cioè in pratica come se fosse la riunione di tutti gli apostoli perché i vescovi sono gli eredi degli apostoli, dovrebbe avere un'importanza rilevante. Chi è che decide le questioni di fede? Chi è che decide cosa è dogma e cosa non è dogma? Il papa o il concilio? Ora, ci sono sostenitori dell'una e dell'altra tesi anche all'interno della chiesa cattolica, anche adesso nel Medioevo intendo, cioè c'è chi dice no, il papa ha più peso del concilio, c'è chi dice no, il concilio ha più peso del papa, sono tesi contrapposte. E c'è da dire che negli anni precedenti a questo 1409-1418 e così via, sembrava aver prevalso la tesi papista, cioè l'idea che il potere del papa fosse davvero il potere più alto e indiscutibile all'interno della chiesa e che anche il concilio fosse in qualche modo sottomesso al papa. Il fatto è che però questa tesi ha portato allo scisma, ha portato alla lotta, ha portato a anni di grande difficoltà all'interno della chiesa e che invece questi anni sono stati risolti poi dal concilio da, appunto come dicevo prima, un po' di ossigeno, una ventata d'ossigeno ai consiglieristi e a quelli che ritengono che invece sia il concilio ad avere maggiore peso, maggior preminenza, maggior importanza e che quindi su alcune questioni solo il concilio possa esprimersi e non possa decidere il papa da solo, è un po' la dinamica che c'è a volte tra sovrani e parlamenti, decide il sovrano o decide il parlamento, all'interno della chiesa la questione è decide il papa o decide il concilio, su certi temi molto delicati ognuno dei due vuole avere l'ultima parola ma ci può essere un braccio di ferro. Ecco in questa fase complice la questione di Martino, la questione di questo scisma ma il concilio assume maggiore importanza e lo avrà ancora per qualche tempo, segno che il potere del papa in parte si indebolisce all'interno della chiesa e si accresce invece il potere dei vescovi in qualche misura. Questa è la prima cosa da sottolineare. Una seconda cosa importante è che questi 40 anni di scisma hanno un effetto deleterio sulla comunità cristiana cattolica europea, cioè la chiesa ancora di più, ancora più fortemente viene vista davvero come un'istituzione sostanzialmente corrotta in cui i problemi spirituali, i problemi religiosi passano in secondo piano davanti invece ai problemi politici, alle guerre, alle lotte, alle scacchiere dove muovono i nuovi pezzi, insomma alle lotte di potere. Cosa che finisce per alimentare anche tutta una serie di nuove eresie. Noi abbiamo già parlato di eresie dal 1100 al 1200, abbiamo parlato dei catari, abbiamo parlato dei valdesi, abbiamo detto come poi Innocenzo III, vi ricordate, anzi se non lo ricordate ve lo scrivo in descrizione e vi linko il video, Innocenzo III aveva represso queste eresie con la violenza in parte, col tribunale dell'inquisizione, in parte poi con anche nuovi ordini che avevano accolto alcune delle rimostranze degli eretici. Ora è passato dall'inizio del 200 ad oggi, a dove siamo adesso, sono passati due secoli, siamo all'inizio del 400, siamo alla fine del Medioevo e nuove eresie cominciano a comparire in giro per l'Europa. Eresie che riprendono alcuni elementi di quelle vecchie, ma sono ancora più rafforzate dal fatto che ormai la Chiesa davvero inizia ad avere poco prestigio, sempre meno prestigio. Vedremo che queste eresie verranno debellate in breve, ma provocheranno dei problemi e verranno in parte riprese, alcuni elementi di queste eresie verranno riprese nel secolo successivo, nel 500, quando poi le eresie si trasformeranno in riforma e ci sarà una vera e grossa scissione, stavolta definitiva all'interno della Chiesa Cattolica. Quali sono queste eresie? Ne vediamo due in particolare che sono più rilevanti di altre, ce ne sono anche altri minori, ma due appunto, ripeto, sono le più importanti. Una è l'eresia di Wycliffe in Inghilterra, la seconda è l'eresia di Hus in Bohemia, cioè nell'attuale più o meno una parte dell'attuale Repubblica Ceca. Partiamo dall'Inghilterra che è cronologicamente la prima a interessarci. Qui, proprio in questi anni dello scisma, inizia a farci notare un teologo che insegna all'Università di Oxford, appunto, che si chiama John Wycliffe. È un esperto, uno studioso, ovviamente un teologo, di questioni religiose e si convince sempre di più che la Chiesa ufficiale, l'istituzione, la Chiesa Cattolica come Papa, Cardinali, Vescovi, eccetera, sia sostanzialmente corrotta. Sia una Chiesa che ha tradito completamente gli ideali evangelici e che bisogna quindi abbattere, riformare, cambiare, da cui bisogna in qualche modo staccarsi. Una Chiesa che ha tradito tutto, che non fa più il bene ma fa il male. Lui la chiama una Chiesa visibile, corrotta, a cui bisogna contrapporre una Chiesa invisibile e pura. Cioè, di fianco alla Chiesa vera e propria, la Chiesa come istituzione, come gerarchia, eccetera, bisogna contrapporre una nuova comunità di fedeli, una sorta di Chiesa, nel senso non di edificio ma di comunità, formata da persone invece che vivono il Vangelo in modo vero, sincero, puro, cercando davvero di vivere come aveva vissuto Gesù Cristo e non di arricchirsi, di avere potere, di essere importante. Cristo aveva rifiutato il potere, aveva rifiutato le ricchezze, non viveva nel palazzo dei papi di Avignolo, di Roma, sempre più sfarzoso, viveva con una povera veste in mezzo ai pescatori. Ecco, così dovrebbe, secondo Wycliffe, vivere il fedele. Quindi c'è un forte richiamo alla povertà intanto, alla povertà evangelica, alla semplicità evangelica che bisogna riprendere all'interno delle comunità di credenti. E poi, chiaramente, bisogna anche criticare la Chiesa Cattolica che è la negazione dei veri ideali evangelici, esposti nel Vangelo. Wycliffe, tra l'altro, riesce anche a propagare le sue idee perché si mette a tradurre la Bibbia in inglese. La Bibbia, come vi ho detto altre volte, all'epoca non era tradotta in nessuna lingua volgare, era scritta solo in latino, era stata scritta in origine in ebraico e in greco, era stata tradotta in latino ancora da molti secoli, da San Girolamo, ed era rimasta in latino. Quindi questo voleva dire che la gente comune, ma a volte anche gli stessi preti ed ecclesiastici, se erano di livello di rango piuttosto basso, non sapevano esattamente cosa dicesse il Vangelo, o almeno non sapevano leggere ogni pagina, a parte che molti non sapevano neppure leggere, ma pure non conoscevano il latino. E quindi il messaggio evangelico rimaneva spesso ignoto, lo si raccontava a voce nelle omelie, quello si, nelle predicazioni, quello si, però certi passi del Vangelo erano davvero poco conosciuti. Tradurre in inglese la Bibbia voleva dire renderla accessibile anche a frangere la popolazione più bassa, più umile, meno istruita, che però poteva scoprire per l'ultima volta che effettivamente Gesù era povero, che effettivamente Gesù è povero, poi qua, ecco, parentesi, in un video che ho fatto tempo fa qualcuno mi ha detto non è vero che Gesù era povero? Allora, apriremo una questione teologica immensa, perché nel Medioevo qui proprio ci furono grandi lotte tra chi sosteneva l'assoluta povertà di Cristo e chi diceva che invece Cristo qualcosa possedeva, eccetera, eccetera, eccetera. Io non voglio entrare in questa questione, cioè una cosa da specialisti, adesso andiamo via un po' più veloci. Però, ammettendo che Gesù non possedesse niente, oppure che possedesse qualcosa, sicuramente non era un ricco, non era un uomo pieno di denaro che viveva in un bel palazzo. Diceva la gente che i poveri andranno in paradiso, questo possiamo dirlo, penso che sia accettato da tutti a meno che non si voglia negare quello che c'è scritto nel Vangelo. Quindi, sicuramente lo stile di vita di Gesù era povero, era umile, era figlio di un falegname, andava in giro a girare, diceva andiamo a pescare, aveva tre pani e cinque pesci, o cinque pesci e tre pani, o tre pani e cinque pesci, credo. Comunque, aveva poco, aveva poco, possiamo dirlo, anche se aveva qualcosa, era comunque poco. Quindi, a leggere il Vangelo e a voler imitare Gesù Cristo, perché alla fine bisogna tentare di imitare Gesù Cristo, sembra che si debba vivere, non dico un'estrema per forza, un'estrema povertà, comunque quantomeno non nel lusso alla paperone dei paperoni, ecco, diciamola così. Ora, Wycliffe traduce la Bibbia, la Bibbia in inglese si diffonde e si crea un gruppo di fedeli, di predicatori ispirati da Wycliffe. Questo gruppo di predicatori in Inghilterra, intendo, viene chiamato il gruppo dei Lollardi, parola strana che deriva da un verbo dell'inglese del tempo medievale che è Lollen, che vuole dire pregare. Quindi, dei predicatori che pregavano, che andavano in giro a raccontare anche le tesi di Wycliffe, a spiegarle al popolo, questi Lollardi hanno un certo successo in Inghilterra. L'eresia di Wycliffe si diffonde perché ovviamente la Chiesa non l'accetta, la Chiesa non ha dato nessuno ai permessi di tradurre la Bibbia in lingua volgare e non accetta queste polemiche contro la Chiesa ufficiale, per la povertà, eccetera. La Chiesa è molto dura contro Wycliffe, però il pensiero di Wycliffe si diffonde, tanto l'Inghilterra è distante da Roma e da Avignone in Inghilterra. Il pensiero si può diffondere abbastanza agevolmente, c'è da dire anche che inizialmente il potere in Inghilterra il re, i nobili inglesi, non reprimono questa eresia, non intervengono per frenare i Lollardi, per placarli, per arrestarli, li lasciano un po' a fare, perché almeno all'inizio si pensa che questi Lollardi potrebbero anche tornare utili al potere, al potere politico, perché qua dobbiamo ricollegarci a quello che era successo anche in Francia prima con Filippo il bello. I vari sovrani d'Europa iniziano a non essere poi così contenti che la Chiesa sia così forte, non dico spiritualmente, ma politicamente, perché la Chiesa oltre ad avere chiaramente una grande influenza sullo spirito e sulla religiosità delle persone, ha una certa influenza anche sull'economia e sulla politica degli stati. La Chiesa fa pressioni sui governanti, perché è un potere, la Chiesa riscuote tasse, il decime ad esempio, molto importante, a volte possiede anche grandi terre, con la scusa dei monasteri che avevano ingrandito il contado, con la scusa di gente che quando moriva lasciava in eredità alla diocesi le proprie terre, con la scusa poi dei vescovi conti, insomma in vari modi nel corso dei secoli la Chiesa cattolica aveva iniziato a possedere in Francia, in Inghilterra, in Spagna, delle terre, delle risorse finanziarie, delle risorse economiche rilevanti. Ora in Inghilterra si pensa a questo, questi Lollardi criticano la ricchezza della Chiesa, certo sono un po' strani, ma lasciamo rifare, perché in fondo se questa critica contro le ricchezze della Chiesa avrà un buon seguito, forse per noi a un certo punto diventerà relativamente facile togliere alla Chiesa qualche ricchezza, prenderci ad esempio le terre della Chiesa e farle entrare tra i beni dello Stato, in modo da risanare le nostre finanze, da mettere a posto le nostre casse e così via. I vari sovrani e i nobili inglesi iniziano a pensare che forse i Lollardi potrebbero anche tornare utili in un modo o nell'altro e per il momento li si lascia fare, non durerà a lungo, perché dopo questa iniziale tolleranza nei confronti dei Lollardi, i sovrani inglesi e i nobili inglesi cambieranno idea perché questi Lollardi diventano pericolosi anche per i nobili, anche per i sovrani e scatterà una vera e propria repressione davanti a questo movimento anche in Inghilterra e verranno perseguitati e la cosa si andrà esaurendo abbastanza da sole. Però come vedremo il mistero di Wycliffe che si è diffuso in Inghilterra non si è diffuso solo in Inghilterra, ha fatto proseliti anche altrove. Questo altrove dove le idee di Wycliffe arrivano e sedimentano è la Bohemia in particolare, in Bohemia in particolare queste idee hanno un certo seguito, la Bohemia se non lo sapete, dovreste saperlo, ma se non lo sapete è una parte dell'attuale Repubblica Ceca, è la regione dove sta Praga, è un giorno importante, storicamente molto rilevante, abbastanza ricca, abbastanza sviluppata. Ecco, in Bohemia queste idee di Wycliffe vengono riprese da un predicatore locale che si chiama Jan Hus. Attenzione, errore che fanno sempre i miei studenti, spesso, non è Jan, John, Jan, cioè Jan sì, non è Jan, è Jan, si legge alla Ceica così, la lingua si legge così. Quindi Jan Hus è un predicatore locale bohemo che viene a conoscenza di queste idee di Wycliffe e dice, beh, ma forse questo Wycliffe ha ragione, in fondo non è mica sbagliato quello che dice e dovremmo anche noi cambiare la nostra chiesa avvicinandoci a quegli ideali più evangelici, più anche volendo estremi, ma meno attenti alla ricchezza, eccetera. La predicazione di Hus inizia ad avere un certo successo anche in Bohemia, non solo per gli ideali che Hus propaga, che per carità sono ideali che vedremo verranno ripresi, avranno sempre un certo seguito, ma anche perché questa predicazione di Hus si sposa in qualche modo con il nascente nazionalismo bohemo e qui dobbiamo aprire di nuovo una parentesi. Allora Praga era parte di un regno, il regno di Bohemia, era un regno autonomo, però che rientrava all'interno dei confini dell'impero tedesco, del sacro romano impero germanico. Quindi Praga come mezza Germania, come nord Italia, era ancora formalmente parte dell'impero. Però a Praga non si parlava tedesco, mentre nel resto dell'impero si parlava quasi dappertutto tedesco, a Praga si parlava cieco, si sentiva diversi dai tedeschi, il popolo si sentiva bohemo, cieco, non tedesco. E però nel corso di questi anni, tra la fine del 300 e l'inizio del 400, Praga diventa, gioco forza, la capitale dell'impero tedesco, perché ci sono una serie di imperatori che appartengono alla famiglia dei Lussemburgo e in particolare Carlo IV, che abbiamo già citato, se vi ricordate quando abbiamo parlato della bolla d'oro e ve lo metto in descrizione così, se siete curiosi ve lo andate a rivedere, questo Carlo IV Lussemburgo, imperatore tedesco, decide di stabilire, anzi lui è nativo di Praga, ma decide di stabilire proprio la capitale dell'impero a Praga. Uno dovrebbe dire, beh, Praga sarà contenta di essere la capitale, di aver quindi prestigio, onore, ricchezza, perché poi la cancelleria, tutti i funzionari si spostano lì, vuol dire anche avere giro d'affari, rilevanza, la città si ingrandisce, si sviluppa, eccetera, 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 sì e no, perché è vero che Praga vive un momento di splendore, tutto sommato, ci sono grandi lavori pubblici, grandi opere pubbliche, si ingrandisce la città, eccetera, 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 però la corte imperiale, cioè tutti i funzionari, tutti gli uomini che vivono a corte sono tedeschi e si trasferiscono a Praga, cioè Praga viene, tra virgolette, una terminologia che si usa a volte oggi per i migranti, viene invasa dai tedeschi, cioè si trova un sacco di tedeschi in città che parlano tedesco, che si sentono stranieri rispetto ai bohemi e che però dominano in città, perché adesso loro hanno le leve del potere, loro sono i padroni della città, perché sono funzionari importanti, perché sono funzionari decisivi, Praga vorrebbe più autonomia, vorrebbe staccarsi da questo impero, vorrebbe staccarsi dai tedeschi, perché si sente diversa dai tedeschi, eppure i tedeschi di fatto finiscono per prenderla in mano, per controllarla e governarla, cosa che alimenta un malcontento. Vedremo che anche più avanti nella storia, anche fino al 600 ne parleremo di come i bohemi mal digeriscono questi tedeschi che arrivano lì e si vogliono imporre, lo vedremo anche per la guerra dei 30 anni che scoppia proprio a Praga, per motivi per certi versi simili a questi. Ora, i funzionari tedeschi occupano Praga, i pragesi non li sopportano, li vorrebbero cacciare e trovano nella predicazione di Hus, che predica la povertà, che predica l'umiltà, che critica il potere, trovano un buon appiglio, perché anche i bohemi criticano il potere, il potere dei tedeschi. Hus criticava il potere nel senso religioso, nel senso di un potere che corrompe e che allontana da Dio. I bohemi dicono sì, è vero, il potere corrompe, soprattutto il potere dei tedeschi. Insomma, le due predicazioni si salvano, il messaggio di Hus e il messaggio nazionalista, potremmo già chiamarlo così, di indipendentismo, usando un termine molto più moderno, dei bohemi si saldano questi due sentimenti. Infatti Hus ha un buon successo, la sua predicazione coinvolge larghe fette della popolazione bohemi in funzione antitedesca. Come va a finire? Va a finire che nel 1415, mentre si sta svolgendo il concilio di Costanza, quello che, come vi ho già detto, arriverà a risolvere lo scisma, i vescovi a Costanza dicono, beh, questo Hus sta predicando in Bohemia, sta avendo grande successo, però è pericoloso. Però si rischia di creare un'altra fattura, noi dobbiamo ricomporre le fratture e mentre ci lavoriamo per ricomporre le fratture c'è questo Hus che ci vuole staccare mezza Bohemia. Chiamiamolo a Costanza, facciamolo venire qua, lo invitano al concilio. Apparentemente lo invitano per venire a spiegare le sue idee. Hus, quando riceve l'invito, è anche ingenuamente contento perché pensa di poter andare a Costanza a convincere i vescovi che le sue idee sono buone, giuste, che tutta la chiesa dovrebbe riformarci come dice lui, cioè abbracciare maggiormente la povertà, cambiare stile e così via. Però cosa accade? Quando Hus arriva a Costanza, prova a rifendersi, ma il concilio gli è totalmente contrario e Hus viene messo a rogo, finisce molto, molto male. Hus non fa più il ritorno da Costanza, viene ucciso, segno che, meglio, non accettare gli inviti dei concili. Questo, lo dico, sembra una battuta, ma in realtà vedrete che Martino Lutero, tra qualche anno, cioè anno cronologico ma indattato a qualche lezione, riceverà anche lui un invito a presentarsi e difendere le sue idee e dirà, cari miei, io mi ricordo bene cosa è successo a Janus, io da voi non ci vengo e se la caverà meglio, in effetti sarà più saggio di Janus. Comunque Janus viene bruciato e questo però ha un effetto, diciamo, contrario a quello sperato. I vescovi speravano di mettere a tacere questa eresia di Janus e placare il sentimento dei boemi, in realtà finiscono per accentuarlo, perché in Bohemia scoppia una vera e propria guerra civile che durerà un ventennio tra i sostenitori di Hus, ormai morto, e i tedeschi o i sostenitori comunque dell'impero e della chiesa cattolica. Questi seguaci di Hus verranno chiamati Ussiti, ancora dopo li troveremo gli Ussiti, oppure anche a volte li trovate chiamati Taboriti, Taboriti da Tabor, che era una città appunto della Bohemia, dove il culto Ussita si era radicato in maniera più forte. Dura per un ventennio e soprattutto vede contrapporsi tutta la società boema contro i cattolici e i tedeschi, cioè in questa predicazione Ussita non si era rivolta solo a una specifica classe sociale, come a volte accade, magari certi predicatori hanno successo con alcuni gruppi, qui Uss era riuscito per vari motivi, appunto anche per questo messaggio nazionalistico in qualche modo, a mettere della sua parte i contadini, ma anche i nobili e anche i borghesi. Tutta la società boema, bene o male, con misure diverse, ma un po' rappresentata tutta contro la Chiesa Cattolica. Durerà una ventina d'anni, sarà molto sanguinosa, alla fine si arriverà a mettere in parte a tacere questa predicazione Ussita, ma in realtà sotto traccia rimarrà ancora per molto tempo. Ecco, siamo arrivati più o meno alla prima metà del Quattrocento, abbiamo visto queste eresie che nascono, poi vengono sedate in qualche modo, con difficoltà muoiono, però la situazione non è stabile. Certo, adesso abbiamo un Papa unico, abbiamo il Papato a Roma, però come vedete i mali della Chiesa continuano a fomentare sotto traccia un malessere, c'è un malessere diffuso nella Chiesa Cattolica, un malessere che all'inizio del Cinquecento scoppierà e porterà alla nascita del luteranesimo, alla nascita del calvinismo, dell'anglicanesimo, di varie nuove Chiese che si staccheranno da quella Cattolica e l'unità, almeno dell'Europa occidentale dal punto di vista religioso ormai si perderà in maniera definitiva. Ma di questo parleremo a suo tempo, tra non molto, perché ci stiamo avvicinando però un po' più avanti. Per il momento questo è tutto. In descrizione trovate l'elenco degli argomenti che abbiamo affrontato oggi in questa spiegazione con il minuto da cliccare per poterlo riascoltare se volete un certo punto, un certo discorso. In cui trovate anche il link ai video che ho citato e altre risorse interessanti. Ci vediamo qui presto per nuovi video di storia, di filosofia e di educazione civica. Ciao, alla prossima!